Luisa è una sex worker che è stata nostra ospite più volte qui e che è la compagna dell'avvocato dell'atomo ed è bisessuale, ma ti spiega bene in questo video, ma noi non abbiamo il video, naturalmente manderemo degli estratti, perché non va al Pride? Vai! Sono bisex, gender fluid e femmina e quest'anno non vado al Pride. Perché? Perché in teoria è una manifestazione per i diritti di chi ha orientamenti o identità di genere non conforme. In pratica è diventato il palco di affermazione settaria di tutto ciò che si crede essere lotta politica della sinistra. È esattamente quello che dico io, cioè è diventato 25 aprile ragazzi, dai, forza! Questo è estremamente problematico. Perché intanto deumanizza l'individuo LGBTQ o suo alleato, dandone per scontata l'appartenenza politica. Cioè, lottiamo contro l'assegnazione di genere ai neonati ma imponiamo identità politica agli adulti? In secondo luogo perché, di conseguenza, esclude, direttamente o meno, operando una discriminazione sulla base dell'opinione politica. Ad esempio sono etero, pro diritti di tutti, ma antifeminista. Perché devo manifestare con chi crede al patriarcato? Oppure sono b, sono per la crescita sostenibile infinita, che ho da spartire con gli ambientalisti anticapitalisti per la decrescita? O ancora, sono trans e sono per gli aiuti all'Ucraina, che tra l'altro è una battaglia per gli omosessuali, oltre che quella contro l'oppressione in generale. Perché a Torino non posso portare la bandiera gialla e blu? Quanta ragione ha questa qua? Cioè, avete trasformato una roba libera, una roba gioiosa, in un ennesimo 25 aprile, con gli espicapi del PD sui carri, a destra e a Manca, a Milano e a Roma, ma che roba è? Sì, ma solo se sei come il gruppo e pensi come il gruppo. In tutte le città, nei cortei, si sono viste bandiere palestinesi. Da persona che ha a cuore la causa, mi viene da dire che c'ha zecca. Ok, è bello? Al Pride si parla di oppressione, quindi ecco il collegamento da esamino della maturità con la Palestina. Ma perché a Torino si vieta la comunità ebraica di sventolare le proprie bandiere, le GPTQ? Perché si fa storia a quelli che vogliono sventolare quelle dell'oppressa Ucraina? Vero dietro a questi divieti c'è una lotta per l'oppressione e non magari l'occasione di fare gli anti-occidentali? Perché se fosse l'oppressione il motore, perché non si è sentito nessun coro per lo Ieme? Non ho visto striscioni per il Sudan, dove la magnitudo della crisi umanitaria è ancora più impressionante. Perché non si sente una parola di critica contro le repressioni nel mondo islamico estremista? Contro il regime degli Ayatollah? E perché no? Proprio di sostegno alla community in Palestina, i cui individui si trovano da un lato a temere di essere uccisi per motivi etnici, ma dall'altro per motivi di sessualità. Avete confinato il Pride alla sinistra, mamma mia. Numero uno assoluto. Non ne parlate perché andreste in cortocircuito. Perché avete confinato il Pride alla sinistra. Una sinistra che nel suo atteggiamento escludente si digievolve in populismo oscurantista. e stringe mano alla destra. Perché pur di imporre la bontà di questa sinistra, legittimato è una politica identitaria. Che non fa differenza tra ciò che uno pensa e ciò che uno è. Tutto vero, tutto vero. Anche se è un po' complesso, è un po' filosofico. Però tutto vero. Michele da Messina poi... Ma c'è soltanto un errore in tutto questo. Che è la destra che sostanzialmente ha scelto di non mettere i diritti al centro della propria battaglia politica. Ma ci sono, non rompere i coglioni, Michele da Messina, ma quali diritti, ancora diritti. Non ci sono le adozioni, le adozioni, non sono mille le cose che non ci sono. Non dire cazzate, non è un diritto l'adozione gay, forza Michele. Io ho un sacco di amici, di coppie, che hanno fatto, ad esempio, oggi è diventato un reato universale la gestazione per altri. Grazie al tuo governo. Male. Grazie al tuo governo. Male, per me male, però è legittimo. Grazie al tuo vannaccino. È legittimo, però, una legge così, Michele da Messina. Bene, ecco, questo è certo che è legittimo. Ma se uno non è d'accordo con te, è fascista. Ma che cazzo vuol dire? Non è il mio mondo. Eh, Michele, dimmi. Si restringono i diritti. Sì, vabbè, ma pareggio ignora il fatto che anche le unioni, le adozioni, le coppie omosessuali, possono anche essere due pedofili che si mettono d'accordo e si accaparlano i bambini degli altri. Ma adesso non dire cazzate, dai. E adesso andiamo a nocciolo delle dichiarazioni di Luisa, che saluto, buonasera, ciao cara, come stai? Ciao, mi sentite bene che mi hanno fatto storie, che non sentite? No, ti sento benissimo, perché giustamente ti hanno fatto storie, se no io mi incazzo come una bella, ma non con te, per carità, ma con il collegamento. Non si sente, come sai, alla radio è fondamentale sentire. Allora, è stato, come dire, virale, è andato un po' virale, devo dire la verità, me l'hanno segnalato in molti questo tuo video in cui dici che da bisessuale... Quando mi scrivono questo messaggio molto interessante, peraltro un altissimo dirigente di media, se di cui non posso rivelare il nome, ma mi scrive, persino Satana, quando sente gli spostati della zanzana per scaramanzia si tocca. Mi sembra una sintesi meravigliosa. Su un discorso di Satana di prima, su un discorso di Satana. Allora, su non vai al Pride, fondamentalmente riassumo, Luisa, perché è diventato una specie di 25 aprile, io l'ho detto prima, 25 aprile. Adesso l'ho ridotta in questo modo, però fondamentalmente è quello che dici, no? No. No, come no? No, intanto allora, premettiamo una cosa, che il mio video non è andato virale. E' andato virale il video che Salvini ha scaricato dal mio account... Ma chi se ne frega però di Salvini, dai? Adesso... No, e l'ha diffuso senza neanche taggarci, quindi vabbè, coscienza del genere... Ma questo va bene, ma io non ho parlato di Salvini, ma io non ho parlato di Salvini, a me ne frega nulla di quello che ha fatto Salvini, mi interessa la sostanza. La sostanza è proprio questa, che nel senso è preso la sostanza e ne è fatta tutt'altra. Non è assolutamente quello che dico nel video. Ma sì, ma ho riassunto, dai, su, ho riassunto, dai, Luisa. No, ho riassunto facendo un uomo di paglia. Hai dato Pride alla sinistra, hai detto, avete confinato il Pride alla sinistra, la stessa cosa, dai, forza. Cioè, non è che ho detto una cosa diversa. Avete confinato il Pride alla sinistra. Sì, hai detto una cosa diversa. No, non ho detto una cosa diversa. Ho detto che hai alterato il pensiero di questa persona... Vediamo se riescono a ridurre questo video... Evidentemente ti sei spiegata male, però. No, 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 io metto a disposizione di questa persona il mio team legale. Dimmi, dimmi. Ecco, va bene, il team legale che... No, ma il team legale ti dà, ti stava dando ragione, forza. Allora, in questo video semplicemente mi lamento di una cosa. Che in alcuni Pride, in alcune città, visto che ci sono diversi Pride in diverse città, con diverse organizzazioni... Si è adottata un'impostazione esclusiva, perché nell'includere certe istanze che non c'entrano un cazzo con i diritti LGBTQ, si è fatto tutto un mischione tale per cui chi magari marcierebbe anche per i diritti LGBTQ non vuole marciare vicino a quelli che dicono... Ma che sciocchezza è una merda? Ma che sciocchezza sta dicendo? Che favore è questo? E l'Ucraina è una merda? Sì, ho capito benissimo. L'Ucraina... Ho detto la parola Ucraina per adesso? Cioè, ho detto il clima... No, l'hai detto. Sì, l'hai detto. L'hai detto prima nel video? L'hai detto nel video? Ma questo è anche per Malosetta? Oltre a dire cose che non si capisce... Io ho detto che in alcuni Pride, per esempio quello di Torino, si è cercato di limitare, cioè di vietare l'utilizzo di bagliere atlantiste o anche pro-Ucraina. Poi c'è stata la mentela e quindi sono state concesse anche quelle. Ma sono esattamente quello che ho detto io, cioè l'ho ridotto giornalisticamente al fatto che si è... No, l'hai detto giusto, l'hai ridotto giornalisticamente e quindi in maniera erata. Certo, si faccio giornalista, non faccio il filosofo, scusami. Sì, infatti non mi vanterei molto della cosa. Ma invece me ne vanto e me ne fotto dei filosofi e me ne fotto pure dei giornalisti. Pensate. Come l'otta questa, come combatte questa. Me ne fotto dei giornalisti e dei filosofi. Me ne fotto anche di chi mi vuole insegnare come si comunica, perché so benissimo come si comunica, però se mi vuoi spiegare... No, no, sono consapevole che sai benissimo come si comunica e infatti sai benissimo come twistare un messaggio. No, ma non ho... No, no, guarda, abbi pazienza. Ma soprattutto c'è la questione... No, ma fermati un attimo, scusami, perché altrimenti... mi fa incazzare. Allora, la cosa fondamentale è questa. Tu hai spiegato in maniera, anche in alcuni passaggi un po' contorta per il volgo, sto dicendo, che non vai al Pride pur essendo bisessuale, quello che vuoi, gender fluid, eccetera. Ma chi se ne frega che cosa fa questa? Sì, ma va benissimo, vai al Pride. Io ho ridotto la cosa dicendo, ma l'hai detto anche tu, che avete trasformato, cioè l'organizzatore del Gay Pride, questa festa in un Pride della sinistra. Questo l'hai detto, se vuoi te lo faccio risentire, se vogliamo fare la prova del 9 di questa cosa qua. No, no, ma io infatti ho chiuso il video dicendo sinistra ridacci il Pride, nel senso sinistra italiana. Ho detto la stessa cosa, ho detto le sinistra ridacci, ho detto la stessa cosa, perché la sinistra si è appropriata del 25 aprile, come si sta, si è appropriata adesso del Pride. Io non ci ho messo dentro del 25 aprile, non l'ho fatto tra le mie spiace del campo, ma l'ho detto io. Questa è stata pensata, geniale, diciamo. Hai detto questa pensata, geniale. Senti, mi ha rotto il cazzo, lui, che ti devo dire, mi sono rotti i coglioni, perché uno dovrebbe parlare in maniera normale, comprensibile, invece, su una frase che è esattamente quella che hai detto tu, su una frase che è esattamente quella che hai detto tu, perché tu hai detto il Pride si è appropriata alla sinistra del Pride, ho detto la stessa cosa, ho aggiunto questa cosa del 25 aprile, ma non te l'ho messa in bocca, è la stessa cosa, il 25 aprile, la festa della sinistra è diventata, e il Pride è diventata la festa della sinistra, vuoi che te lo spiego le figurine? Non credo, non c'entra un cazzo, cioè tu, voi mi avete, allora, voi mi avete chiamato per un video nel quale io scrivo il concetto che se tu metti dentro cose che non c'entrano un cazzo in una manifestazione, quella manifestazione non c'entra più un cazzo con l'origine della manifestazione, e adesso tu, e adesso tu stai rendendo questa conversazione esatta dimostrazione di quei video. Ma l'hai detto tu che è di sinistra, l'hai detto tu che il Pride se ne è appropriato alla sinistra, l'hai detto tu. Nel momento in cui hai aggiunto qualcos'altro hai reso diverso il messaggio che ho comunicato, cioè non mi sembra che succeda a capire, cioè basta avere l'intelligenza superiore è quella di un cactus per capire una cosa del genere. Io sono un cactus, sono un cactus, no aspetta, posso dire una cosa, siccome mi ha detto che ho il pensiero di un cactus, sono orgoglioso di essere un cactus, ti saluto, i cactus non si confrontano con i geni, ciao.